non posso vedere certe cose e le posso vedere ora allora la mano no niente sto a scherzare sono i giosefì l'infiltrozzo speciale e dove siamo oggi mi sono perso acevoli oggi sono acevoli tu ti senti il rimbombo da lontano peteopum 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 e non mi metti giorno lino a pallacanestre e non l'anno fanno mi possa raggiano un po il pallone no niente perché sono qui e perché perché me l'aspetta io lo sospettavo sopra perché sennò insospettavo invece sopra sospetta da sempre scherzare fatti un po sì sì ma perché siamo al campo di pallacanestre ho detto prima beh comunque velo di ora stanno già andando a pallare a strudicche salva già a pallone al campo sportivo no però siccome c'è pallare questa è una giornata canestro poi non fa come li poi però siamo vi acevoli e cos'è che un potevo vedere senza io me l'aspettavo andranno rifatto il campino e qualcosa sentivo l'odore era voluto per vedere quella buchetta no e poi invece trovo ragazzi ragazzi è un lavoro laborioso vince il buchino qui nasce l'arberino e dice che ha detto e vuole sortire fuori valori se potesse parlare stabile c'è una tarpa vedete 8 è un solo neanche però il fesso c'è guarda il lavoro il campo sportivo meno male è tutto fuori per ora però è un lavoro laborioso ragazzi lo dico ragazzi ha fatto ora la domanda è ma che l'ha fatto questo lavoro andiamo a vedere se si trova anche cos'altro perché l'importante è capire no toccare con mano il campo vecchio e qui c'è il buchino e io ci voglio poi c'è il sindaco mi dice sempre fatto sì è mio amico sì è un amico amicoso concentra ferma ci si mette per far vedere no che qui c'era il buco ora lo sanno tutti niente qui vabbè si sta sciupicchiando piano piano quella è il telefono guardiamo ferma arrivo io mani gioca anch'io chiose chiose ferma è insomma quasi quasi da ci siamo quasi devo imparare anche io per la canestra non è mai riuscita e ci trovo pieni allora vediamo un po qui c'è un altro c'era il buchino la e il bucino è rimasto un buettato io pensavo che lo crellasse prima invece vado niente dalla palla a canestro vedi cevoli e giosefino è tutto l'infiltrato speciale scusa a vedere un po di bui mi pare ce n'era anche di un altro però faccio un buon giro di riondizione di riondizione sindaco ma chi ne ha fatto fa fa tempo nemmeno di buono a facci due partite e già tutte è partito già è un lavoro la prima pensavo a dire la vita crollasse di perché c'era un c'era al cimento invece si vede c'era al cimento e invece è crollato la parte di là e niente da giusefino è tutto questo c'è la gente ciò si è visto nel quadrato e che possa la ragazza ne lo dice se uno ce l'ha ecco dove arriva un potere meglio mantenere l'incognito via da giusefino se la lette è tutto l'infiltrato speciali sempre fino a ormai non uscite una volta e lo vedete è quello ci piove perché poi se piove nasca l'albine niente è tutto da cevoli arrivederci per intercambino buettini a sindaco a sindaco io mi farei ri da soli ora niente arrivederci ciao belli era per dire una cosa cioè perché ma noi sai si è fatto tante cose il problema è farle belle cose sindaco a sindaco di oggi ma perché che c'è inserita a me se una bella figlia